E' stata la cornice di una Vienna addobbata festa con il sempre suggestivo mercatino di Natale ad ospitare una delle quattro tappe degli aperitivi per giovani talenti promossi dalla Camera di Commercio di Bolzano. Trento grazie Monaco le altre sedi della serie di eventi che permette alle aziende altoatesine di reclutare giovani professionisti. La carenza di forza lavoro attualmente è una grande sfida per le imprese altoatesine diventa sempre più difficile occupare i posti vacanti e questo ovviamente frena anche le opportunità di crescita e di sviluppo delle imprese per questo noi come Camera di Commercio quest'anno abbiamo avviato una nuova iniziativa che si chiama Lavorare in Alto Adice con la quale vogliamo proprio riposizionare la provincia di Bolzano come posto attrattivo per lavorare e per vivere e vorremmo soprattutto sostenere anche le imprese nell'aumentare la propria attrattività come datore di lavoro. Una delle misure nell'ambito di questa iniziativa è l'organizzazione degli aperitivi per giovani talenti presso le città universitarie di Graz, Vienna e Monaco di Baviera. Si tratta di una serie di eventi serali in cui le imprese altoattessine possono avviare contatti con i giovani ragazzi altoattessini che studiano all'estero proporgli delle offerte di lavoro discutere diverse forme di collaborazione e noi ci aspettiamo che con queste iniziative riusciamo anche un po' a dimoraggiare i ragazzi a tornare in Alto Adice. Il formato proposto è tutt'altro che inusuale e può rivelarsi efficace per affrontare la grande carenza di personale specializzato che ha indebolito lo sviluppo economico dell'Alto Adice. Quest'anno hanno partecipato agli aperitivi per giovani talenti quasi 50 aziende altoattessine e numerosi studenti e studentesse. Penso che sia importante questo contatto diretto con i studenti per parlare delle possibilità e delle chance che si offrono a lavorare su Tirolo per le dite che sono là come noi dalla Progress che abbiamo tante possibilità come dita. Gli aperitivi per i giovani talenti quest'anno giunti alla quarta edizione sono a cura dell'iniziativa Work in Alto Adice e il Welcome Service offre informazioni e orientamento a coloro che vorrebbero intraprendere un percorso professionale in provincia di Bolzano.